Affronteremo l'Atalanta, sarà una partita difficilissima, però insomma come abbiamo fatto fino adesso ce la metteremo tutta per portarvi a punti. Ormai la partita di Roma è andata, quello che è stato e abbiamo fatto è finito, adesso dobbiamo concentrarci sulla partita di lunedì che è come detto fondamentale. A Roma personalmente penso sia l'idea di tutti, abbiamo fatto una buona gara, sappiamo che comunque avevamo davanti un avversario fortissimo, però abbiamo creato tanto. C'è il rammarico comunque di non aver fatto dei gol, perché secondo me di tutti quelli che abbiamo creato due gol li potevamo fare, però insomma magari ce li teniamo per lunedì che possono servire di più. Troveremo davanti un avversario che ha voglia di fare punti, ha bisogno anche di punti, come ha detto te viene da un periodo difficilissimo e ce la metterà tutta per fare risultato. Dall'altra parte troverà un crotone che cercherà di fare lo stesso lottando su tutti i palloni e cercando di portare a casa più punti possibili.